L'hanno chiamato Barca Velox a Venezia, delle telecamere sul Canal Grande controllano la velocità di motoscafi e traghetti. Chi non rispetta i limiti rischia multe fino a 300 euro. Patrizia Giustarini. 14 occhi elettronici sul Canal Grande di Venezia, un sistema di sensori e telecamere simile agli autovelox per fermare i pirati della strada d'acqua più famosa del mondo. Rileva posizione e velocità di tutte le imbarcazioni trasmettendo dati e immagini in tempo reale nella sala operativa della Polizia Municipale. Nel caso non raro in cui il limite dei 7 km orari venga superato, le pattuglie più vicine vengono avvisate e possono intervenire tempestivamente. Impossibile sgarrare, il sistema installato dal comune è unico e senza precedenti. È un sistema che si basa molto sulle tecnologie legate alla robotica e su simulazioni matematiche ed è in grado di offrire una visione tipo radar dell'intero Canal Grande. Sensori e telecamere sono già installati ma entreranno in funzione dopo l'approvazione del regolamento sulla privacy da parte del Consiglio Comunale. L'anno prossimo il sistema verrà esteso anche lungo altri canali e tutte le pattuglie di vigili riceveranno su un palmare i filmati delle telecamere. Potranno così intervenire direttamente senza più bisogno di essere chiamati dalla sala operativa.